l'arbitro del secondo incontro signor Marco Pacor la disciplina è il K1 Rules la categoria quella dei settantacinque chilogrammi chiamiamo sul ring all'angolo blu ventotto incontri disputati ventitré vittorie per lui e cinque pari medaglia d'argento ai campionati europei WACO 2017 medaglia di bronzo ai campionati europei WACO 2018 per il team Marcello da Firenze Alessio Zeloni prendo il primo volo e non mi volto problema risolto di cui tu nel campus non mi dire nulla perché passi con chi può dammi quel consiglio che Alessio Zeloni contro di lui all'angolo rosso ventotto incontri disputati quindici vittorie per lui otto delle quali per KO tredici sono le sconfitte per lo Yamateam da Roma Francesco Calzone Calzone per la prossima è fatta che non è la mia l'angolo è fatta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.